Dopo il pareggio esterno sul campo dell'Ellornano Badesse nel turno infrasettimanale, l'Ostiamare cerca di tornare a un successo che manca dal 28 di febbraio, dall'1-2 sul campo della Flaminia. Di fronte il Montespaccato che ha interrotto mercoledì contro proprio la Flaminia. Una serie di cinque risultati utili consecutivi, quattro vittorie e un pareggio. E ad oggi è assolutamente impelagata nella lotta per non retrocedere. Dallo stadio Ancomarzio di Ostia, Ostiamare-Montespaccato, il derby. Un saluto da Riccardo Selvi e Simone Nestori. Fischia-Bona-Cina è cominciata, Ostiamare-Montespaccato, primo pallone lungo. Una volta buono il colpo di testa da parte di Dinezza, poi Mastropietro, ancora lui di testa con putti il duello. Lazzeri si cordina col destro e la grandissima parata di Tassi in calcio d'angolo. Prima occasione del match in favore dell'Ostiamare. Lo scambio buono con Epedone, altro sguardo verso il centro. Di fronte a sé due avversari, allora appoggia per Mastropietro col sinistro. Disegna dalla parte opposta la parabola per Carta che si cordina. Pallone alto sopra la traversa. Carta cerca il cross e tanto deviazione pericolosa. Poi Lazzeri la mette dentro per il vantaggio dell'Ostiamare. Al decimo minuto la sblocca Damiano Lazzeri. Errore difensivo del Monte Spaccato. Ne approfitta il laterale destro della formazione di De Angelis. Fa 1-0. Mastropietro, posizione regolare. Viene messo giù da Bassini, si va avanti per il vantaggio. Epedone va col destro e trova un gol pazzesco. All'incraccia dei pali pedone. 2-0 per l'Ostiamare al 35esimo minuto. Va a festeggiare sotto la rete di recinzione dell'Ancomarzio. Ma è un gol spettacolare di pregevolissima fattura. Non può arrivarci Tassi. 2-0 Biancoviola a 10 dalla fine del primo tempo. Adesso usa in verticale Cabella. Attenzione a Mastropietro che prende il tempo a Bassini. Mastropietro si vola verso la porta. È tutto solo davanti a Tassi. Va col destro e firma il 3-0 per l'Ostiamare. Alan Mastropietro. 11 gol in campionato per l'ex attaccante del Pian 2 Torri. E 3-0 per l'Ostiamare in chiusura di primo tempo. Quei pedone. De Sousa lo scarico per Mastropietro col sinistro. Tassi non benissimo sulla ribattuta poi. Anticipa bene pedone. Altra bella azione dell'Ostiamare. Proietto. Cerca il cross. Teso verso Cali con il pallone che sfila. Per la fine lo alza in calcio d'angolo Giori. Questa forse la prima vera occasione per il Montespaccato quando siamo giunti al 67esimo. Cali in verticale qui da Stolfo. a vuoto. Gambale tutto solo davanti a Giori. Può andare col sinistro in diagonale. E Giori la tiene lì. Riesce a far passare il pallone per Pedricchia che va al cross al centro per Putti. In zona tiro. Putti. Esce Salines. Ancora Putti. Che scheggia l'incrocio dei pali. E pallone che finisce fuori. De Dominicis. Cross. Teso al centro per Gambale che va di testa. E sfiora il palo alla sinistra di Giori. Cross di De Dominicis. Sul primo pallone che sfila sul secondo. e lo mette dentro ai Monica Lee per il gol del 3 a 1. 3 a 1 tra Ostia Mare e Montespaccato. Il fischietto alla bocca a Bonacina che decreda adesso la fine delle ostilità. L'Ostia Mare batte 3 a 1 il Montespaccato.